Paola Spena questa mattina si è insediata come nuovo prefetto di Avellino. Il primo incontro stamane con il sindaco, poi ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla Questura, lungo corso Vittorio Emanuele, il secondo prefetto donna di Avellino, che è arrivata in Irpinia in una giornata importante dedicata proprio alla donna. Mi ha fatto molto piacere poter partecipare a questo momento di manifestazione organizzato dalla Questura e dalle scuole, con dei bambini che hanno potuto approfondire questo tema, che è un tema importante e delicato, ma che si fonde essenzialmente su un cambiamento di cultura, di approccio e di mentalità. Quindi il coinvolgimento dei ragazzi è molto importante. Lei da dove intende cominciare? Qui ci sono delle tematiche che sono state affrontate, che dal protocollo sicurezza urbana che è stato appena firmato col Comune su cui bisogna progredire, da uno scenario di criminalità organizzata, sulla quale bisogna tenere alta la guaiarda, insistere, come dicevo anche prima, sia per colpire pesantemente la criminalità organizzata e coloro che in qualche modo sono contigui o addirittura infiltrati dalla criminalità organizzata, sia però per tutelare e le categorie economiche, e la collettività, e le amministrazioni locali, che invece si comportano correttamente. Quindi io qua chiederò anche un aiuto per tutti coloro che le categorie economiche devono espungere i soggetti che non si comportano in maniera corretta, che sono destinatari di provvedimenti come le interdittive antimafia, che sono uno strumento di prevenzione tipico affidato alle prefetture, sulle quali si insisterà, così come sul monitoraggio sul territorio. Quindi il tema naturalmente è la criminalità organizzata, sarà seguito con grande attenzione, ma è anche questo un luogo di ascolto, un luogo di incontro, un luogo di conoscenza, quindi la prefettura è a servizio del territorio e della collettività e quindi proveremo a instaurare un buon rapporto con tutti.